Ogni tanto può essere caldo come si che gli avversari ti hanno spinto appena e vogliono fare qualcosa Tipo da qua, si si puoi fare da qua, si si si, però saltare un'altra Se in volo dici, basta che, dipende, lui può fare un pa, e subito realizzare da distanza O da qui, hop, e avanti, questo è molto più difficile, prima di fare questa cosa, se ti controllo qui, la devo fare il bilancio, e poi entrare Il bilancio, entrare Asp Perfecto che si trovi la città non si trovi non si trovi non si trovi quattro non ci sono non ci sono un po' un po' un po' dipende, se non vedi la si gira e basta che c'è presa e vedi che qualcosa non va come si è centrato, non devi, anche se sei entrato come ti ho già detto, ti hanno alzato e vogliono buttarti, tu ti liberi completamente e ti giri con pancia verso di me, no, con pancia verso di me, guarda, stai qui, oh, si, capito, ma non si apriola, no, 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 io faccio, vedi, tu mi stai attaccando per buttarti, io brusco in un modo brusco, torno, no, ma se tipo, così, io ti prendo, tu mi prendi, io ho fatto, oh, puoi fare anche se aprue, no, perché è difficile di darci volo in un attendo, sì, ma io ti dico, come per me, vedi altra cosa, voglia di vincere, voglia di vincere, voglia di vincere, ma tanto che puoi assurdi in torno di stupilla, anche se non ci sono, non ti permette di avere, presa, questa, quando tu ti senti molto più in posizione, capisci, non ti permette di avere questa, io vado, eh, mi hai preso, vedi, si, sinistra, destra, non ti permette di concentrarsi, io vado di là e sto qui, ce l'ho 360 gradi per tornammi, e ho tutto il diritto di fare questo movimento, questo vuole che tu prenda, sì, perché di solito tu fai e non sei imparato, io ti imparo, non sei imparato a tornare o a difendere, tu sai che io adesso entrerò e se non riesco a fare, posso scappare, lui neanche non sarà pronta per questo momento, perché io vado, e lui si difende, vedi, e invece torno, invece torno brusco, capisci, perché so che, come qua, il secondo momento sarà questo, fai piano, ha il significato di movimento di braccio, e questo è un movimento, un movimento, un movimento, vedi come va na grande, basta di non scontrarti come niente, sì, deve essere molto più nascosto, e deve andare, deve capire dove vuoi andare, la gamba deve lavorare molto, questo è importantissimo questa è la gamba importantissima ingiorna guarda 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 Sì. Molto, molto, molto. Poi si è riuscito a vedere la stagata, non ha spettato la tehnica così preciso. No, troppo. È dato da nord, molto. Sì. Vedi questo troppo? Deve essere di là. Oh. E la gamba posso portare sotto di te. Di là. Oh. Ok. Dici, il laterale va, però prima devi andare di là. Qua, 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 qua. Va. Sì. Può essere che tu fai questa cosa. Sì. 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 Sì.